e ciao a tutti ragazzi sono a gordo 20 42 e oggi siamo ritornati sempre su fortnite allora oggi siamo con due miei amici insieme a questa persona qui questa persona qui e giocheremo a fortnite come potete capire vinceremo molto probabilmente no perché siamo dei scarsoni di merda io sono vinto tre volte vabbè devo vincere sto video ora andiamo a bosco del bateranto no andiamo da a bosco del bateranto non ci vanno papà ora non ci vanno 1 2 3 oh manfredo stiamo volando giù mi sei arrivato tu mi spinta mi hai fatto cambiare della attaccato quindi possibile che non è che solo è più bassa io ancora qualcun altro non vedo mancare nessuno o lasciare qualche arma però ho fatto un cazzo di utile allora o sopra la mia giorno dal pompa io c'ho detto dei mini scudi io gioco a strada di merda non c'è niente nota va ben vicino a te infatti mai centro chi è che ha costruito own by me oh sbrigadami qua per me lo scudino bastardo sto o demoliamo favolo 8 loro viva 1 2 un pompa una una pistola silenziale per me lo scudono materiali Mamma mia tutta che stai facendo un video Tranquillo La taglio a questa parte Una pistola Quanto materiale avete? Io ho 242 mila Io ho 325 Io ho 375 Ma perchè mi ha rubato i piantami a me? Non mi ha rubato il risello La stai facendo un po' La stai facendo un po' Oh, ok. Sì, è vero un po' di nuovo. Io era un po' di questa cosa. Ehi! È beccato. È vero. per te come stai carici ma non sono necessitati anche se fai diamo posto di braccio come devo scegliare che è fatto a farire un posto auspicio c'è andiamo a cena il tempo io già infatti si può dire che siamo arrivati si facciamo 100 per cento un pompa ammardato Ah, ho un bot del di daño. Io stai spessando un po' nella di daño. E' un bot del vento. E' un bot del vento. E' bello che non è stato risonendo tutti gli altri. Perchè un'attacca ma bello non è necessario nascondere. Però ci possiamo costruire? Eh, di giuro l'avevo appena pensato e... Eh, di giuro l'avevo appena pensato e... Eh, di giuro perchè abbiamo armi di me. Ma pompa, tu ci... Ma un pompa io, per capire. Ma io ce l'ho, è pompa. Questa è la prima partita in cui non ho un pompa è... Oh. E' come un materiale, c'è un mappo. Ah, abbiamo melto un pompa. L'arroco, però devo provare. Non mi ha detto. No, ho trovato io, questa cosa che c'è di daño. Uh, c'è l'occhio, usciamo. ma ora è tutto di capigliano siamo ancora capito a poli che c'è sono chiusa non è entrata tutti insieme non è l'ultimo per trovare trappole ditemi la galleria diciamo che come proiettivi sono questo bene al 102 proiettivi per io ho quanta rimanere andamai siete aspettate io sono qua una cosa che è forte vai non è stato l'uomo una passola mi ha fatto pagare di sotto minchia mi chiamava tipo una che l'ha salto minchia dove l'altro oh minchia o ci vuol dire ma che fa oh no i coppi di popolo anche sopra siamo messi in merda m4 bianco un merdoso no c'è visto però la storia pariva ci vorremmo avere un bel nai troppo per la cara costruita un meglio di così non può esistere comunque qua c'è qualcuno non riesco come si giovanabbero già hanno demolito in tutto in quando deve vivere intorno bisogna ancora i pilastri quanti se non è di ferro no bisogna ne metà albici ah qual è una data che so che sto rotto non si nota oh ehi ehi c'è qualcuno con me da destra da destra dentro l'albero ah eh cazzo cosa cazzo oh cazzo ora ego o retromarciano indietro la cazzo merio un co2 hanno battuto la gara l'arico solo la salle sta venendo ma è qua e qua anche alla volta così tanto io ho levato che c'è nuova di vita a meno si ragazzo veramente vabbè avevo messi pure mai avevo il tre colpi e non potevo fare niente io ho tirato un colpo in testa e io ho levato 120 mila ritorno invece ritornando 19 di vita se no possiamo andare a crescere di cento sai andato volendo c'è un carica porco due non ci sta a caricare cosa c'è la dischia mappina con i non c'è niente ancora io sto entrando ancora non sta caricando non è buco sta caricando adesso che deve essere abbandonato no è per esempio è uscita da solo ma dai stanno come si chiama la nuova mossa puro sale ora ti farà uscire ecco non c'è ancora me l'ha fatto ma è quattro ore per la città ora ti è uscita ma che devi invito no ancora no ancora no no per favore ho vittuto luca ma poi sta parte tagliala guarda quello ha detto che stiamo partendo in questo momento infatti io ho detto l'errore di create ma chi è entrato ma chi è entrato ah ragazzi scusate per l'interruzione ma come state vedendo è forte si è completamente buggato che ha fatto uscire simultaneamente dal gioco tutti e tre e non posso più giocare non so per quanto durerà questa cosa ma spero che duri poco penso che non... allora penso che sicuramente questa cosa durerà un pochettino più di quanto penso io quindi è inutile aspettare troppo e meglio concludere adesso il video quindi ragazzi se il video vi è piaciuto mettete i like iscrivetevi al canale soprattutto seguitemi nella mia pagina di facebook nella mia pagina di instagram alla facebook e nelle pagine di twitch spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video grazie grazie